Il videoclip che sta veramente riscuotendo un successo... Ma quante visite siamo arrivati su YouTube? Quasi 340.000 in 5 giorni, penso che sia un record e da adesso è partito anche il tamburo della radio e penso che la gente abbia molto credito questo va 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 perché come dico io è meglio va 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 oggi che una gastrite domani, va bene?